Perché Aslemix? Perché alla fine siamo amici di Marco, di Filopat, di Andrea, quindi è un ambiente molto vicino al nostro, siamo venuti molto vent'anni. E qualcosa sull'ultimo libro e i progetti futuri? Sì, il libro è uscito proprio ieri, si intitola La ragione delle mani, è una raccolta di racconti tenuti insieme dal tema della musica. Poi mi interessava magari cercare un taglio diverso da come di solito si affronta l'argomento musica, quindi non tutti i racconti sono con un'ambientazione rock. E spesso la musica poi fa parte della biografia dei personaggi, ma non è così centrale. E adesso lo sto portando in giro con dei reading, andremo avanti fino a quando ce la facciamo, credo almeno fino a primavera. Grazie. 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 Grazie.